Benvenuti o bentornati su ABC, io sono Andrea e questo è il mio canale. Oggi parleremo del marchio RVB Lab The Skin, nello specifico della loro Infusion Sleeping Cream della linea Mesofil, dove c'è il brevetto Yalosmart PGA appunto. Diciamo che RVB Lab The Skin è la sezione farmaceutica, se vogliamo, del marchio Diego Dalla Palma e RVB Lab Skin Lab è in realtà un'azienda che da più di 60 anni operava già nella cosmesi e si occupava già appunto di dermocosmesi. È stata poi presa dal marchio Diego Dalla Palma e è stata inserita nel canale farmacia come RVB Lab The Skin, sia The Skin che The Makeup, perché loro producono anche The Makeup. La particolarità è che portano delle innovazioni della profumeria nella farmacia oppure portano la professionalità del make-up Diego Dalla Palma in farmacia. Sempre però con tutti i test che devono superare i prodotti farmaceutici e quindi la delicatezza che devono avere i prodotti farmaceutici per poter entrare nel canale farmacia. Andiamo a parlare adesso meglio dell'appunto Yalosmart PGA Mesofil Infusion Sleeping Cream. Allora, come lavora questa crema? Come tutta la linea Mesofil lavora con i mini acido ialluronico, vengono definiti, cioè delle sezioni molto piccole di acido ialluronico che servono a stimolare il nostro acido ialluronico presente nelle nostre cellule per produrne altro, perché produrre il nostro acido ialluronico è sempre la cosa migliore. Ricordiamoci sempre che le punturine di acido ialluronico sì, sono fenomenali, sì, vanno a rimpolpare, ma non saranno mai come il nostro acido ialluronico. Quindi cerchiamo sempre di lavorare di prevenzione dai 25 anni in su e cerchiamo sempre di lavorare stimolando la produzione, il nostro attorno al cellulare e la nostra produzione di collagene ialluronico. Detto questo, dentro questa appunto crema c'è quindi lo Yellowsmart PGA, che è questo brevetto per la stimolazione del nostro acido ialluronico. Poi c'è la creatina, che è un energizzante cellulare, per cui stimola le cellule a produrre la sostanza fondamentale e quindi tutto ciò che è l'impalcatura della nostra pelle. e la consistenza di questa crema è molto particolare. Ve la vado a far vedere. È molto burrosa, infatti non fa l'effetto crema, vedete? Non rimane sulla crema. È molto molto burrosa, cioè bisogna prenderla e poi spalmarla. È molto particolare. Perché l'hanno fatta in questo modo? Perché forma un film sulla pelle che rilascia i principi attivi durante tutta la notte. Quindi voi sentirete proprio questo film che riveste viso, collo e decolletè e questo film rilascerà i principi attivi durante tutta la notte. Non è apiccicosa. È bella, importante, quindi si sente consistente. Per le pelli secche va benissimo, per le pelli grasse, come dico sempre, un pochino meno. Essendo però una crema a notte, non ha particolari svantaggi perché poi la mattina ci si lava il viso e quindi si risolve il problema. Non è una crema che verrà riputata durante il giorno. Le videolotazioni. Viene circa una sessantina d'euro al prezzo al pubblico. Sono 50 ml, classici. È una crema che io amo molto. Ha un profumo molto delicato. È una crema che non dà particolari problemi alle pelli sensibili, ma pelli particolarmente arrossate non la consiglio. La consiglio sempre in momenti in cui la pelle è riposata e non è appunto arrossata e non è infiammata. Perché potrebbe dare qualche problema a quella poca percentuale di profumo che comunque è nella crema. Perché la crema ha un po' di profumo all'interno. Qualità-prezzo è ottima perché comunque nella tecnologia, la tecnologia che ha è valida, molto valida, e per quello che deve fare è veramente molto valida. Questa lavora principalmente quindi sulle rughe. non è indicata se si vuole lavorare più sul tono. Perché lì c'è proprio un'altra sezione del marchio RevuB Lab che è Agile Per, proprio dedicata al tono. Quindi al cedimento strutturale della pelle. Come tipo di crema quindi notte la consiglio. Ripetiamo le indicazioni. Nelle pelli secche benissimo, nelle pelli grasse un pelino di meno. Tenere a punto tutta la notte, risciacquarla la mattina, a qualità-prezzo ottima. Quindi se volete lavorare sulle rughe, se avete un viso particolarmente segnato, volete regalarla a qualcuno della vostra famiglia, che non si offenda ovviamente, che ha un viso particolarmente segnato, questa è la crema adatta notte. Perché lavora proprio sulle rughe. Detto questo vi saluto come sempre. Vi ricordo di mettere like al video, di condividerlo se volete, se mi volete aiutare a far crescere la community. di seguire ovviamente il canale e i social, che vi metterò sia in descrizione che qui sul video. E vi lascio col mio motto, cioè che i miracoli non esistono, ma la costanza fa miracoli. Kisses!